Musica Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale La procura di Gela ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo al momento contro i gnoti per la morte del giovane di Niscemi Salvatore Leonardi di 30 anni che domenica scorsa ha perso la vita negando in un pozzo nel tentativo di salvare il proprio cane Ieri intanto in chiesa madre a Niscemi a dare l'ultimo saluto a Salvatore C'era anche Ares il suo amato Pitbull tenuto al guinsaglio da un familiare Ieri pomeriggio in chiesa madre a Niscemi a dare l'ultimo saluto a Salvatore Leonardi C'era anche Ares il suo amato Pitbull tenuto al guinsaglio da una familiare Il cane rimasto lì accanto al feretro dell'uomo che ha sacrificato la vita per lui per tutto il tempo del funerale C'era naturalmente tantissima gente a gremire la chiesa Amici, parenti ma anche il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, la giunta, gli scout di cui Salvatore faceva parte da sempre E tanti niscemesi che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia Leonardi sconvolta dalla tragedia di domenica scorsa Salvatore incontrato a Ulmo ci andava spesso, quella domenica era alla ricerca di asparagi insieme con un amico E con l'inseparabile Ares quando l'animale è precipitato all'improvviso in un pozzo irriguo profondo circa 15 metri Il giovane nel tentativo disperato di salvarlo si è calato nel pozzo che era privo di scala usando un tubo utilizzato per l'irrigazione Ma non è più riuscito a risalire anche a causa dei vestiti e delle scarpe intrise d'acqua e del graduale stato di ipotermia L'amico che era in sua compagnia ha subito lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gela E gli uomini del servizio speleo pluviale dei vigili del fuoco di Palermo insieme ai sanitari del 118 e alla polizia Ma per il giovane non c'è stato niente da fare Intanto la procura di Gela ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo al momento contro i gnoti per questa tragica morte Il corpo del giovane di Niscemi è stato restituito ai suoi familiari dopo l'autopsia eseguita dal medico legale Cataldo Ruffino di Catania che ha confermato la morte per annegamento e ipotermia Nel pozzo in cui sono caduti il cane e il giovane quel pomeriggio c'era una temperatura bassissima tra i 10 e gli 11 gradi al massimo e questo ha ulteriormente complicato la situazione La procura di Gela fin dall'inizio ha delegato ogni indagine al commissariato di polizia di Niscemi a 360 gradi, dice alla DN Cronos il procuratore Musti che è assegnatare dal fascicolo al fine di comprendere se l'evento si potesse evitare Per il magistrato quella di Salvatore è una morte assurda il ragazzo sarebbe stato sempre cosciente fino al momento del decesso La procura di Gela adesso vuole capire se la morte è stata cagionata per colpa oppure per inosservanza di legge o regolamenti e capire se quella morte si poteva evitare C'è stata una situazione anche di sfortuna, di difficoltà per localizzare il punto preciso Il corpo della vittima infatti è stato recuperato solo verso le 23 di domenica dai sommozzatori arrivati da Palermo proprio per la difficoltà della posizione del giovane Secondo il procuratore Musti va esaminata anche la problematica dei tanti pozzi disseminati nelle campagne che hanno dei proprietari che si disinteressano della proprietà e capire se i pozzi vadano assicurati con grate o coperture idonee per evitare tragedie simili L'indagine al momento è contro ignoti Il Consiglio Comunale ha annullato in autotutela la delibera con la quale nelle scorse settimane era stata approvata la rideterminazione dell'aliquote IRPEF Le esenzioni previste con un emendamento dei civici secondo gli uffici comunali avrebbe determinato incassi inferiori in contrasto con i parametri del dissesto Varato favorevolmente l'annullamento in autotutela della delibera che definiva gli aumenti IRPEF ma con l'emendamento dei civici di una buona idea per le esenzioni fino a 15.000 euro L'assise civica si è espressa per stoppare il provvedimento a supporto i cinque consiglieri che hanno richiesto il passo indietro sulla scorta delle valutazioni del Collegio dei Revisori e del settore bilancio Gli autonomistici Cagliaglietti, il forzista Trenito, l'esponente progreco Morselli e il presidente del civico consesso Salvatore Sammito hanno espresso voto favorevole per il resto invece un unico no e sette astenuti soprattutto tra le fila dell'opposizione Secondo gli uffici tecnici come ha riferito il segretario generale dirigente al bilancio Carolina Ferro le esenzioni avrebbero potuto generare un gettito IRPEF inferiore rispetto a quello programmato andando in contrasto con i precetti del dissesto I civici si sono dimostrati ancora una volta assai scettici e il capogruppo Davide Sincero ha parlato di una situazione che si sarebbe potuta definire anche con un annullamento d'ufficio La agrilina Virginia Farruggia a sua volta si è chiesta la ragione che ha invece consentito il precedente voto seppur sotto leggi da degli organi di controllo Il capogruppo di Fratelli Italia Vincenzo Casciana ha fatto rilevare che già la prima votazione il partito si era espresso contro e ha interrogato Sammito per ottenere la conferma del passo indietro formalizzato il presidente ha spiegato che ci si è resi conto anche confrontandosi con professionisti del settore che si sarebbe potuto determinare un ulteriore danno per l'ente e anche per questo c'è stata la scelta dell'annullamento in autotutela Nel corso della seduta, poi rinviata la prossima settimana sia il segretario Ferro sia l'assessore al bilancio Maria Angela Faraci hanno nuovamente invitato l'aula ad esprimersi con l'approvazione di atti imposti dal dissesto per evitare il blocco dei trasferimenti del governo nazionale uno stop inciderebbe stato confermato anche sul pagamento degli stipendi dei dipendenti municipali tre anni e sei mesi di reclusione il collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Miriam D'Amore ha condannato un operaio romeno l'uomo che viveva da tempo in città era accusato di violenze e maltrattamenti ai danni dell'ex consorte che poi si è trasferito altrove il collegio l'ha assolto però dalla contestazione di violenza sessuale i fatti vennero denunciati proprio dalla donna parte civile nel procedimento assistita dai legali Valentina Loporto e Federica Maganucco l'imputato è invece rappresentato dall'avvocato Giuseppe Cascino la difesa sia nel corso dell'istruttoria sia durante le conclusioni ha posto l'accento su quelle che sono ritenute contraddizioni nel racconto dell'ex ma anche altri testimoni a partire da quanto riferito dal nuovo compagno della donna l'imputato ha sempre escluso violenza ha invece parlato di una vita scandita soprattutto da ritmi del lavoro e un rapporto matrimoniale che via via si andava incrinando secondo questa versione non avrebbe mai picchiato l'allora consorte ma anzi sarebbe stato abbandonato del tutto uno scenario differente lo ha tracciato la procura che ha confermato le contestazioni a lei è stato riconosciuto il diritto al risarcimento danni da definire in sede civile la difesa attende le motivazioni e si rivolgerà alla corte d'appello Nell'ambito delle presentazioni alla città dei progetti di opere che hanno ricevuto già i necessari finanziamenti nei prossimi mesi vedranno la luce con le conseguenti concretizzazioni questa mattina è toccato proprio al parco urbano dell'Orto Pasqualello con i suoi percorsi nuovi a redi urbani l'area playground e l'area dog park un'opera che dovrebbe vedere la sua realizzazione entro il 2026 Puntuale ad ogni vigilia di campagna elettorale torna la riqualificazione dell'Orto Pasqualello non si è sottratta nemmeno l'amministrazione comunale che da questa settimana ha iniziato le presentazioni alla città dei progetti di opere che hanno ricevuto già i necessari finanziamenti e nei prossimi mesi vedranno la luce con le conseguenti cantirizzazioni questa mattina così presso i locali della Pinacoteca Comunale di Viale Mediterraneo è toccato proprio al parco urbano dell'Orto Pasqualello con i suoi percorsi e i nuovi a redi urbani l'area playground e l'area dog park c'è una differenza però rispetto alle precedenti campagne elettorali e la spiega l'architetto Gianni Mauro che ha firmato il progetto è cambiato che c'è un finanziamento di fatto ottenuto e un progetto già eseguito, redatto e consegnato e una gara d'appalto già eseguita c'è nel senso che ormai forse per la prima volta no forse, sicuramente per la prima volta non c'è solo un progetto ma già c'è una gara d'appalto affidata e pertanto probabilmente per la prima volta per tanti anni avremo un orto Pasqualello realizzato con che tempi? i tempi sono quelli previsti dal Pinqua entro novembre 2025 l'opera deve essere conclusa quindi stiamo parlando di fatti molto concreti e con una tempistica molto stretta soddisfatto naturalmente il sindaco Lucio Greco che durante la presentazione ha entusiasticamente parlato di Annus Mirabilis per quel che riguarda la riqualificazione della città davvero questa è la volta buona parliamo di un progetto che è già stato cantierizzato nel senso che sono stati già appaltati i lavori gli uffici stanno valutando la documentazione per poi sottoscrivere il contratto e fare partire i lavori credo che davvero il 2024 può rappresentare l'anno di vera svolta, di vero cambiamento della città che oso definire come dicevano i latini Annus Mirabilis l'anno mirabile, l'anno delle meraviglie l'anno del miracolo perché poter riqualificare con i progetti già finanziati col PNRR grazie a tutto il lavoro fatto da questa amministrazione e dagli uffici comunali nonostante le note criticità di personale tecnico e amministrativo è davvero un miracolo non la pensa così il consigliere pentastellato Virginia Farruggia secondo la Grillina l'evento di oggi non è altro che la replica della presentazione dello scorso 17 novembre su finanziamenti peraltro intercettati anche grazie al lavoro dei rappresentanti politici proprio del Movimento 5 Stelle nulla di nuovo sotto il sole dunque dice la Farruggia se non il profumo di propaganda finalizzata alla campagna elettorale l'incontro di oggi è semplicemente una replica di quello che abbiamo fatto un paio di mesi fa solo che un paio di mesi fa abbiamo presentato tutti i progetti relativi al PINQA mentre oggi e probabilmente nelle prossime settimane assisteremo ad incontri in cui si presenteranno i progetti singolarmente ma i progetti sono sempre gli stessi non è cambiato nulla quindi evidentemente tutto questo ci accompagnerà fino alla campagna elettorale vera e propria e quindi alle elezioni che il sindaco si faccia campagna elettorale su un impegno veramente che ha visto una squadra assolutamente al di là dei partiti lavorare insieme penso che non sia corretto tutto qui La prima convocazione del lato rifiuti è andata deserta oggi pomeriggio una nuova chiamata e questa volta saranno necessarie soglie di voto inferiori si decide l'eventuale revoca del commissario Lucisano Era attesa quasi come una resa dei conti anzitutto politica invece l'assemblea del lato rifiuti in liquidazione ieri in prima convocazione è andata deserta c'erano solo il commissario Giuseppe Lucisano e i componenti del collegio sindacale che hanno formalizzato l'indizione della seduta dopo mesi di pressing istituzionale dei sindaci di Niscemi, Butera, Deglia, Sommatino, Riesi e Mazzarino se ne riparlerà oggi pomeriggio in seconda convocazione sembra evidente che l'assenza dei sindaci possa essere una strategia così da ritrovarsi proprio oggi pomeriggio ma con soglie di voto più basse senza che le quote maggioritarie del comune di Gera possano essere decisive il sindaco Lucio Greco infatti anche in consiglio comunale in settimana nel corso del monotematico sulla vicenda Ato ha confermato il sostegno a Lucisano gli altri sindaci puntano alla revoca e alla chiusura in tempi rapidi della liquidazione con il passaggio alla SRR4 in settimana si è già tenuto un tavolo tecnico in regione ancora una volta senza i sei sindaci ma con Greco e Lucisano l'Ato ha indicato la piena titolarità sul sistema di compostaggio e sugli asset principali il commissario vuole avanzare nella liquidazione ma senza mettere a rischio il patrimonio dell'ambito e i crediti maturati i sei sindaci temono un prolungamento sine die della liquidazione e costi eccessivi in consiglio comunale il sindaco Greco ha però chiesto pubblicamente se ci sia un interesse dei suoi colleghi a mettere le mani sul lato e sulle basche di timpazzo secondo l'avvocato tutte le manovre sono finalizzate proprio ad un controllo totale dell'impiantistica con il subentro di SRR e impianti SRR e senza garanzie per l'ambito e per i rapporti in essere intorno alla permanenza o meno del commissario si muovono tante rivalse politiche ma probabilmente pure la volontà di cambiare rotta mettendo in inferiorità il sindaco Greco una gara di traduzione che fosse da stimolo allo studio delle lingue straniere incentivasse gli alunni più volenterosi a intraprendere il mestiere di traduttore era uno dei sogni di Zelia Guzzo l'insegnante gelese è morta a causa degli effetti del vaccino anti-covid AstraZeneca il marito Andrea Nicosia ha deciso di portare a compimento il progetto dell'insegnante gelese deceduta nel 2021 per perpetuare la sua memoria di docente e traduttrice la prima edizione del premio Zelia Guzzo concorso regionale di traduzione della lingua italiana alla lingua francese sarà ospitata dal 10 al 13 aprile 2024 dall'istituto Leonardo da Vinci la competizione è rivolta agli alunni che frequentano nell'anno in corso le scuole medie inferiori e superiori gli esponenti di azione stanno lavorando alla lista per le amministrative e al contempo valutano le scelte da assumere entro fine mese potrebbero decidere quale collocazione assumere non ci sono vincoli rispetto al rapporto con il sindaco il tempo delle scelte politiche si avvicina e la gruppo locale di azione in queste settimane sta lavorando alla lista e al rafforzamento della struttura cittadina gli esponenti che si rivedono in calenda nonostante non siano mancati i momenti di forte incomprensione non hanno mai messo in discussione la loro permanenza nell'aggiunta greco seppur in assenza di vincoli predeterminati soprattutto in questo periodo attualmente gli incontri sono soprattutto con la base del gruppo locale come spiega il coordinatore Luigi Riddio l'intenzione è di decidere insieme quale direzione prendere è possibile che entro fine mese le idee saranno ancora più chiare Diddio ribadisce comunque che c'è la piena disponibilità a valutare ogni progetto politico amministrativo senza vincoli azione ha le quote in aumento in città e non a caso tanti vorrebbero finalizzare un eventuale accordo elettorale e non solo Diddio non si è mai sbilanciato i calendiani non hanno espresso preferenze per un blocco piuttosto che per un altro attualmente il lavoro è concentrato proprio sulla lista lo ribadisce ancora Diddio gli incontri verranno fatti per quanto concerne invece il rapporto con il sindaco Lucio Greco Diddio spiega che se ci sottoporrà il suo progetto lo valuteremo senza problemi chiaramente se verranno fatte scelte differenti da un possibile Greco bis tutto ciò sarà comunicato al sindaco e questo potrebbe anche incidere sulla permanenza di azione in giunta il partito ha posto una priorità istituzionale sul capitolo dei progetti e dei finanziamenti l'assessore in quota azione Francesca Caruso lo riferisce proprio Diddio continua a lavorare senza sosta entro fine mese probabilmente o comunque entro una trentina di giorni si potrà arrivare alla sottoscrizione dei contratti per i lavori di qualità abitare a quel punto secondo Diddio il gruppo avrà quasi del tutto completato l'iniziativa istituzionale poi i progetti potranno andare avanti anche senza una presenza diretta dell'assessore o di altri riferimenti del partito d'azione arrivano conclusioni politiche nitide nessun preannuncio di accordi in bianco con l'avvocato Greco e prospettive senza preclusioni per l'imminente corse elettorale Gli studenti del plesso di Santa Maria di Gesù hanno partecipato a un incontro sulle problematiche giovanili e in particolare il bullismo il cyberbullismo l'utilizzo di internet e dei social network con i relativi rischi a esso connessi a dialogare con gli alunni il tenente colonnello Marco Montemagno comandante della stazione dei carabinieri di Gela L'istituto comprensivo San Francesco ha aderito ad una rete di cultura antimafia che propone incontri formativi per affrontare il tema della legalità a 360 gradi per questo motivo su invito della dirigente Maria Lina Lachina il tenente colonnello Marco Montemagno comandante del reparto territoriale di Gela ha incontrato gli studenti del plesso Santa Maria di Gesù abbiamo impegnato queste due ore di tempo a parlare di bullismo e cyberbullismo cercando di far comprendere ai nostri ragazzi il rispetto verso il prossimo e verso le persone anche le conseguenze che tali comportamenti all'interno di una scuola possono avere da un punto di vista sia civile che naturalmente anche penale le conseguenze del bullismo sono gravi possono essere conseguenze psicologiche anche sui nostri ragazzi quindi il nostro dovere è quello di far comprendere che atteggiamenti che per loro possono essere a volte inquadrati come degli scherzi molto spesso si possono tramutare possono avere delle conseguenze gravi I carabinieri sono stati accolti nell'auditorium della scuola dove hanno affrontato gli attualissimi temi del bullismo e del cyberbullismo nonché le potenziali insidie della rete ed in generale connesse all'uso della tecnologia sempre più alla portata di giovani e giovanissimi Lei ha voluto calcare un po' la mano anche sul dire no soprattutto per quanto riguarda le ragazze Sì, anche in questa fascia di età quindi tra i 12 e i 15 anni le ragazze devono imparare assolutamente già da subito a dire di no e pretendere il rispetto della propria persona questo per evitare che quando raggiungono la maggiore età si possono verificare quegli episodi che possono essere episodi appunto di maltrattamenti di stalking che purtroppo oggi sono diventate molto presenti e che vedono anche l'arma dei carabinieri in prima linea a contrastare questo fenomeno La seconda parte dell'incontro si è focalizzata sul dialogo aperto tra il militare e gli studenti che hanno posto domande volte ad approfondire alcuni aspetti di loro interesse e fugare ai propri dubbi circa le tematiche affrontate Abbiamo imparato molte cose belle e anche il comportamento che dobbiamo rispettare dopo che si ricevono atti di bullismo Il bullismo è una cosa molto grave Sì Perché? Perché tu ti puoi sentire in colpa e ci sono certi bambini come ha detto il maresciallo che si sono succidiati Abbiamo fatto le domande sul bullismo perché tanti bambini si sono ammazzati per colpa dei bulli che sono nelle scuole Il bullismo è una cosa che è una violenza e il buio è un bambino che può dare le botte a un altro bambino che è la vittima Se noi dobbiamo assistere a un atto di bullismo dobbiamo aiutare la vittima e dobbiamo fare in modo che la vittima non ci fa male e dirlo ad altre persone agli adulti Una dirigente ha detto che avevano fatto uno sticker tramite tra le compagni e lei si è messa a posta per difendere la vittima È vero che molte persone stanno in mute, silenzio anche se sanno molto Ha ragione Dovremmo essere più attivi a difendere la vittima da bullismo e sempre bullismo e dovremmo essere sempre a proteggere i più deboli Lo sport acqua agitata è nel gel Mirko Fosciana non sta dirigendo gli allenamenti Da ieri la squadra è stata affidata al preparatore atletico Matteo Barresi che sarà collaboratore del capitano Raffaele Gambuzza e del portiere Armando Di Martino Nessuna comunicazione da parte della società ma già da ieri pomeriggio di Mirko Fosciana di Mirko Fosciana non c'era traccia Qualcuno parla di sospensione un termine che facciamo fatica a comprendere nel gergo calcistico che può significare tutto o niente Di certo c'è stata una convocazione in società di diversi cacciatori in cui è stato chiesto del perché del rendimento altalenante della squadra poi la decisione piuttosto inusuale di sospendere l'allenatore Per adesso bocche cucita in casa a Bianca Azzurra che domani scenderà in campo della Rocca Qualdocese non ci saranno Martino e Segolisano mentre rientreranno Resuf, Rechichi e Beca tra i convocati e anche l'ultimo arrivo Marrico Messina E' tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo a quotidianodigela.it adesso vi lascio alle previsioni meteo grazie per averci seguito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti